Pensate quanta fame veniva a Giusta del Melaguoi e alla sua scuola nel fare questi affreschi e sapete dove andava a mangiare? In piazza del Duomo. Facciamola anche noi 700 anni dopo. Questo è il Duomo e lì abita il Vescovo. Quella è la banca più antica di Padova. Si chiamava Monte di Pietà e questo è l'Arco Vallaresso intitolato al Capitano che nel 1630 fece di tutto per far uscire Padova dalla peste. Praticamente un'Andrea Crisanti. E però noi non parliamo di Covid, parliamo di cibo. Questo è il selciato di un'antica strada romana. Ha più di 2000 anni. Le volte sono medievali. Qui, oltre a mangiare, si respira la storia. Questo è Tony, chef e titolare di Il Gancino. Tony, cosa hai preparato oggi? Oggi due fetture di pesce. Ma il locale ha 2000 anni. Il pesce invece? 3-4 ore, è arrivato stamattina. Abbiamo i barboni nostrani, seppie, calamareti nostrani e seppie. E io direi di provare subito. Buonissimo. Grazie. E dopo la frittura di pesce, un gelato al limone. Direi che ci sta proprio qui, al caffè e al Duomo.